Stiamo raggiungendo a piedi il Bosque de Piedras. Il Bosco di Pietra che si trova vicino a Rechipa e a 4600 metri d'altezza. È uno spettacolo della natura, è un qualcosa che è stato scoperto soltanto da due anni. Era nascosto ed i viaggiatori l'hanno trovato passeggiando dopo la pandemia. Il Bosco di Pietra è un qualcosa di inimmaginario. Sembrano tante statue, tante sculture create dall'uomo, mentre invece sono tutte rocce laviche. Insomma davvero uno spettacolo da guardare qui dall'alto. Io mi sono addentrato insieme agli altri escursionisti, siamo saliti fino in cima e attenzione, da qua su si vede tutto, siamo davvero in altezza. L'ossigeno è di meno, la pressione è alta perché siamo molto in alto, tanto è vero che anche fare pochi passi in velocità si sentono subito sul corpo. Vi faccio vedere, ciao ragazzi, qua veramente basta un passo falso e siamo tutti giù per terra, però con grande attenzione guardate che spettacolo. Questo si chiama il Bosco di Pietra.